Al grado qualche divergenza, Costantin Cernienco, 72 anni, è stato nominato all'unanimità, almeno così dicono i comunicati ufficiali, segretario generale del Partito Comunista. Cioè a dire, il nuovo capo assoluto del cremelino. Cernienco, nella sua veste di nuovo capo del partito, si è recato a rendere omaggio alla Salma di Andropov nel pomeriggio. Lo accompagnavano gli altri 11 membri del Polibirò, tra i quali Tikonov, il presidente del Consiglio, il quale stamane, di fronte al comitato centrale del partito, aveva proposto appunto Cernienco come successore di Andropov. C'è stato un duro dibattito tra i sostenitori dei giovani, Gorbaciov e Romanov, e i conservatori più anziani, Ustinov, 74 anni per i militari, e Gromico. Hanno vinto i conservatori. Nel suo discorso di investitura, Cernienco si è richiamato alle decisioni già prese per lo sviluppo dell'economia. Ha reso omaggio alla figura di Andropov, ma sembra lo abbia implicitamente criticato, affermando che il suo solo desiderio di seguire una via di sviluppo è insufficiente, e che oltre a porre obiettivi giusti, bisogna agire conseguentemente e con visione realistica dei risultati. Ricordiamo che Cernienco era un pupillo di Bresnev e che Andropov, prendendo il posto di quest'ultimo, aveva detto le stesse cose. Per la politica estera, il nuovo capo del Cremlino non ha detto nulla di nuovo, salvo ribadire la generica disponibilità del Cremlino a una soluzione pacifica dei problemi, il che sembra confermare che non ci saranno per ora cambiamenti di indirizzo in questo settore. A Mosca, intanto, continuano, come abbiamo detto, ad arrivare le delegazioni straniere. Ecco, vedete, il presidente Pertini, accompagnato dal ministro degli esteri Andreotti, è sbarcato all'aeroporto di Ceremietova poco dopo le 18.30. Il presidente ha sopportato bene il lungo viaggio e ha espresso il desiderio di recarsi a deporre la corona italiana davanti alla salma dello scomparso. Anche la delegazione del Partito Comunista Italiano, capeggiata da Berlinguer, ha reso omaggio alla memoria di Andropov. Sempre in serata, sono arrivati a Mosca anche il cancelliere Colle, il vice primo ministro cinese e i capi dei paesi dell'est. Grazie a tutti.